Sport show è anche su Rete Cabri, il network nazionale Canale 20, che nasce in campagna e raggiunge tutto il paese. Sport show, notizie, commenti ed opinioni del primo talk che da Napoli parla all'Italia del calcio. Chi vincerà lo scudetto? Quali saranno l'italiano in champions? E poi il mercato, le novità di oggi e quelle della prossima stagione. Non solo le tv di Roma e Milano, ma anche Napoli e sport show saranno al centro del calcio. Vivrete con noi questi match finali che determineranno il campionato più emozionante degli ultimi dieci anni. Sport show ogni lunedì 20.45, Rete Cabri, Canale 20. La grande sfida è cominciata!